Che differenza c'è tra un video online e il modo tradizionale di fare i video, soprattutto dal punto di vista della fruizione? Direi senz'altro che il video online offre la possibilità di avere accesso a un'audience molto ampia, che non è localizzata, non è che io sto venendo a proiettare il video nella sala cinematografica della tua città e se non me lo distribuiscono tu non lo vedi, quindi rompe le barriere geografiche ma anche le barriere linguistiche molte volte, quindi tu puoi fruire un video in inglese che magari gli editori del tuo paese avrebbero giudicato non interessante perché la maggior parte delle persone non vuole vedere video in inglese, però tu lo puoi vedere. E rompono anche le barriere molte volte culturali, cioè quella cosa lì prodotta in quel contesto lì, estraneo al mio contesto culturale, è accessibile per me. Cambia il modo di fruizione anche nell'intersezione con le nostre abitudini di vita, cioè non sto andando al cinema, non mi sto fermando e pagando un biglietto e passando la serata a fare questo, non è la televisione, non sto premendo un telecomando in casa mentre sto in ciabatte con la vestaglia, mentre faccio colazione e lo guardo e non lo guardo perché intanto faccio altre cose, non voglio sentire il rumore oppure voglio guardare un po' di televisione per smettere di pensare ai miei problemi oppure mi voglio divertire dieci minuti, mi voglio rilassare e mi accendo la televisione. Spesso questi video online entrano nella realtà quotidiana, cioè mentre io parlo alcuni di voi hanno guardato dei video e questo è normale, non è che qualcuno sia scandalizzato, oh guarda lui sta guardando un video, perché siamo abituati che succedono delle cose, in diciamo i multitasking, vanno a riempire tutti i buchi, a volte pure troppo, nel senso che ci sono dei buchi che ci servivano, quelli buchi di riflessione, sto aspettando l'autobus intanto mi viene vita della mia vita, no, sto aspettando l'autobus intanto mi guardo un video, quindi si vanno a inserire nei buchi o vanno a creare un desiderio, oh mi voglio proprio rilassare, mi voglio guardare un video. Sfruttano, si appoggiano alle nostre abitudini sociali, oh hai visto che ha fatto la Roma ieri? No, oh hai visto quel video? Diventano un contenuto, io prima non ti potevo passare alla televisione, o almeno ti potevo dire, hai visto ieri sera che hanno fatto? No, non l'ho visto e finiva là, magari te lo potevo raccontare, ma non è che lo potevi andare a ripescare. Io ti posso dire, hai visto che hanno fatto ieri sera in tv? No? Vattela cercare su YouTube, quante volte hai detto questa frase? Oppure, oh guarda sto video e te lo mando, te lo mando via email o te lo mando via Facebook, quindi si attaccano alle abitudini sociali e rompono quindi anche dei confini demografici, lo sapete meglio di me, che le reti televisive non ci vedono come Giulio, Lorenzo, Sara, Michelangelo, ma ci vedono come target maschile 25-35 anni di una metropoli in Italia, ci vedono come delle masse di soggetti demograficamente catalogabili. E qua si rompono un po' le cose, perché il video che può piacere a me, può piacere anche a mia madre, a mia sorella, ci sono degli interessi trasversali e non ci sono più serate, cioè non c'è la prima serata, la seconda serata, la fascia oraria, il palinsesto. Perché anche i progetti di palinsesto nella proporre video online sono morti? Perché il palinsesto? Ma c'ha senso sto palinsesto? No. Online non ha per niente senso il palinsesto. Gli orari li faccio io, li faccio io. E anche le repliche le faccio io. Quante volte ho visto lo stesso video perché mi andava di rivederlo? Quante volte ho utilizzato il video come musica? Ho utilizzato una playlist per sentire musica di sottofondo e manco lo guardavo il video. Quante volte mia figlia mi ha chiesto di rivedere lo stesso cartone animato? Ha visto, rivisto, rivisto, rivisto. Tant'è vero che i contenuti video per bambini online spopolano, perché i bambini hanno questa caratterizzazione, come ti piace che gli leggi sempre la stessa favola? perché riconoscono la storia e la interiorizzano? Allo stesso modo di piacere vedere sempre lo stesso video, sempre lo stesso cartone animato. Quindi chi conosce un po' i bambini sa che poi si fissano con le cose e poi cambiano e si fissano con un'altra. L'online permette questa cosa qui. Ho un'interazione che non si limita a vedere, non vedere, ma l'interazione con i video online si esplicita nei commenti che io posso fare, anche negli apprezzamenti, nel mi piace o non mi piace, su Facebook o su YouTube. Sempre di più la direzione del video online è quella di consentire a chi produce il video di comprendere se quel contenuto è interessante, quando è interessante e quando non è interessante. Non so se lo sai già, ma lo stesso YouTube ha una sezione che si chiama Analytics, dove ti dà le statistiche sui video. Che statistiche so? Ti dice da che paesi sono stati visti, quando sono stati visti, quali video sono stati visti, ma anche all'interno dello stesso video ti permette di vedere l'attenzione. Cioè, quando quel video è stato guardato e quando non è stato guardato. Quando l'attenzione è scesa, boom, a picco. E quindi ti permette, se tu crei video, di studiare l'andamento dell'attenzione, di modificare il tuo format per incontrare meglio gli interessi delle persone che ti stanno seguendo. L'ultima cosa, infatti, che ci diciamo per capire le differenze tra video online e video tradizionale, è questo. Col video tradizionale io parto con un format. Parto con una puntata a zero, oppure vado direttamente live con un lungometraggio, con un cortometraggio. Nel video online si introduce un elemento di sequenzialità. Il video online è sempre work in progress, perché non è che io lo faccio e te lo do e tutto lo vedi ed è finito là. Io lo faccio, tu te lo vedi, da te mi proviene un feedback, che siano commenti, che sia apprezzamento, quel video diventa virale visto da tantissime persone, che sia il mi piace o non mi piace, che sia anche semplicemente l'attenzione. E io il video successivo lo posso migliorare. Per questo il mio consiglio a chi vuole fare produzione di video online è buttati, inizia, cioè non aspettare di essere perfetto, non aspettare di avere l'idea geniale, inizia e poi ti raffini e poi cambi, e poi fai mille cose diverse, perché solo facendolo potrai entrare dentro le dinamiche specifiche del video online che per te che sei già in qualche modo specialista del video tradizionale possono non essere così semplici. Io, per esempio, quando ho iniziato a conoscere il mondo dell'editoria online, dopo aver fatto un master in giornalismo, ho dovuto disimparare tutto quello che avevo imparato, cancellare il modo di scrivere che avevo imparato durante il master in giornalismo e rimparare a scrivere per le persone che mi leggevano online, che mi leggevano in contesti completamente diversi, attraverso device diversi, con anche delle esigenze diverse. Una cosa è se io esco con il film di Natale e a Natale le persone, il giorno di Natale, la sera, è il momento in cui vanno a vedere di più i film perché non c'è niente da fare dopo il cenone e quindi esco con il cinepanettono, una cosa è se io faccio un video che le persone potrebbero cercare, un video che è utile, per esempio, un video che viene cercato, così come per gli articoli, una cosa è se io pubblico sul messaggero e quindi le persone comprano il messaggero e leggeranno il mio editoriale, una cosa è se io scrivo una cosa che le persone dovranno trovare attraverso Google perché hanno cercato quell'argomento specifico, come fare una cosa o se è stato scritto qualcosa su un argomento specifico. Queste sono le differenze principali, a mio avviso, tra video tradizionale e video online.